Squadre che entrano in campo! Accogliamo le tre Meritano! Un ballo pronto! Partiamo forte! Non può essere una spirotti! Giada! Non è solo un uomo per battere! Oh, che è madrissimo qui! Ciccano il banco giusto! Vado a bloccano! Squadre di nuovo in campo! Vai, vai, vai! Sotto uno! Sotto uno! Sotto uno! Sotto uno! Sotto di sotto! Ma è che ricomincia! Buonien che facciamo ampiamente il suo nel due! Vieni! Eh, la pasta! Fatevi sentire! Un don di tre due spiace! Cos'è lo fa? Vieni! 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 Gole, gole, gole! Amor! 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 riprende a giocare 30 secondi e suona la campanella 5, 4, 3, 2, 1 e lo tanto che si esaurisce quindi distanza un po' la mente in attesa che le squadre dominano il campo squadre di nuovo al campo e lo tanto che si esaurisce 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 No, 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 no! un portiere di centino per Roma Si salva con una parata d'applausi! 1-2-1, ancora 30 secondi. 5-2-1, ancora 30 secondi. 9-8-7-6-5-4-3-2-1. 5-2-1, ancora 30 secondi. 5-2-1, ancora 30 secondi. 5-2-1, ancora 30 secondi.